gentilissimo direttore mi chiamo Nicola Ciaffoni e faccio parte del collettivo artistico Caraboa Teatro la contatto per proporci con il nostro ultimo progetto 20 grammi lo spettacolo affronta i temi più che mai attuali dei cambiamenti climatici e del nostro impatto su questo pianeta il titolo 20 grammi prende spunto da uno studio della Royal Society che quantifica la produzione di anidride carbonica di tutte le nostre azioni quotidiane per esempio 20 grammi è il peso dell'anidride carbonica prodotta da una singola email anche ora anche mentre le sto scrivendo questa mail io sto immettendo nell'atmosfera 20 grammi di co2 20 grammi che vanno a sommarsi alle centinaia di altre mail che ho mandato per promuovere questo progetto tra l'altro egregio direttore artistico 20 grammi spettabile comune 20 grammi gentile assessore 20 grammi gentile critico 20 grammi 20 grammi 20 grammi 20 grammi 20 grammi poi non risponde mai nessuno nessuno risponde e sono altri 20 grammi ma allora che cazzo ve la vanno a fare un'azionata un'azionata Grazie a tutti